La scansione temporale scelta, in questo caso, copre il periodo che va dall'undicesimo al quindicesimo secolo. La scelta in particolare della chiusura del periodo, il 1454, è legata al convergere in quegli anni di alcuni eventi, ad esempio la presa di Costantinopoli nel 1453 o la fine della guerra dei cent'anni, che segnarono l'esaurirsi di realtà politiche caratterizzanti la storia medievale. In realtà, tra questi fenomeni tipici della storia medievale che vanno a morire, c'è innanzitutto la crisi delle due grandi autorità universali del Medioevo, vale a dire l'impero e la chiesa, che è collocabile nel secolo precedente, il 14esimo. Invece, alla metà del quindicesimo secolo, abbiamo la fine delle guerre feudali, cioè di quelle guerre in cui protagonista è la grande nobiltà, in questo senso, oltre alla guerra dei cent'anni, va segnalata sicuramente la guerra delle due rose, che costituiscono appunto le ultime guerre feudali e che saranno sostituite dalle guerre dell'età moderna, guerre, ripeto, in cui più che l'apporto della nobiltà feudale era centrale il ruolo dello Stato e quindi della monarchia. Sempre intorno alla mità del quindicesimo secolo scompare una realtà politica che aveva segnato in qualche modo una continuità. Questa realtà politica che aveva segnato tutta la storia medievale, era stata l'unica presente dalla dissoluzione dell'impero romano fino appunto al quindicesimo secolo, viene distrutta dalla presa di Costantinopoli e dall'avanzata turca. Il primo grande fenomeno politico di questo periodo è la lotta per le investiture. Innanzitutto definiamo che cos'è un'investitura. L'investitura è l'atto con cui un'autorità politica e religiosa investe un individuo di una carica. In tal senso i re e o imperatori dell'Alto Medioevo investivano della carica di vassalli, fossero essi conti, duchi e marchesi, la propria nobiltà. Tale atto era anche quello con cui venivano nominati i vescovi. Questo conflitto ha come protagonisti da una parte l'impero e dall'altra la chiesa, perché entrambi volevano arrogare solo a se stessi il potere di nominare i vescovi. Perché l'impero aveva interesse a controllare la nomina dei vescovi? Perché sin dagli imperatori della dinastia ottoniana, siamo cioè nel X secolo, l'impero si era servito appunto dei vescovi come propri funzionari e amministratori dell'impero, creando soprattutto in Germania una figura ibrida particolare che oltre a svolgere funzioni religiose svolgeva funzioni di tipo civile. Si tratta della figura del vescovo conte. I vescovi del resto svolgeranno questa funzione all'interno di molti centri urbani dell'impero a partire da questo periodo. Con il Dictatus Pape del 1075 l'allora pontefice Gregorio VII stabilisce innanzitutto che il Papa è superiore agli stessi principi. In quanto l'istituzione del potere politico sarebbe opera di Dio e il pontefice, in quanto rappresentante di Cristo in terra, avrebbe una supremazia su tutti i sovrani terreni, imperatore compreso. In questo senso il Papa aveva anche la facoltà di destituire dalla loro carica re e imperatori se essi fossero caduti nel peccato. Di conseguenza, solo al pontefice spettava il diritto di nominare i vescovi e non all'imperatore. Se quest'ultimo avesse compiuto un tale atto sarebbe caduto nel peccato di simonia, pratica allora molto diffusa nella Chiesa, a cui bisogna dare appunto il significato di trarre vantaggi materiali dai doni dello Spirito Santo, in questo senso dalla compravendita di beni e cariche religiosi. Il documento stabiliva inoltre che i vescovi ordinati dall'imperatore non avrebbero più avuto la possibilità di entrare nelle Chiese e i fedeli non dovevano ricevere da loro i sacramenti, cioè la confessione e la comunione. Ovviamente questo significava smantellare tutta l'organizzazione che era stata data all'impero e che si fondava appunto su questa fedele collaborazione dei vescovi conti, nominati personalmente dall'imperatore. Si apre così una lunga disputa tra l'imperatore Enrico IV e Papa Gregorio VII che ha il suo episodio culminante nella cosiddetta umiliazione di Canossa. Pare che l'imperatore abbia sostato per tre giorni davanti al castello di Canossa dove era in quel momento il Papa per ottenere il suo perdono vestito di un semplice essaio di lana. Questa scelta dell'imperatore fu determinata dalla scomunica che il Papa aveva operato nei suoi confronti. Ora il potere di scomunica era un potente strumento politico nelle mani della Chiesa perché nel mondo medievale i rapporti tra le autorità centrale e le autorità periferiche vale a dire fra re e propri feudatari o fra appunto imperatore e propri vassalli erano rapporti di fedeltà personale. E' ovvio che tali feudatari sempre pronti a venire meno a questi obblighi e a reclamare la propria autonomia non si sarebbero sentiti più obbligati a rispettare l'autorità imperiale nel momento in cui questo fosse stato escluso dalla comunità cristiana appunto attraverso la scomunica papale. La lotta per le investiture si conclude nel 1122 con il concordato di Worms. Il concordato è un accordo tra lo Stato e la Chiesa. Nel caso specifico il concordato di Worms stabilisce che l'investitura religiosa dei Vescovi spetta al Papa mentre quella politica all'imperatore con una precisazione però in Italia l'investitura religiosa avrebbe preceduto quella politica al contrario di quello che sarebbe avvenuto in Germania. Ciò significava in pratica fare dell'Italia un'area di influenza politica del Papa cosa che gli avvenimenti a seguire dimostreranno. La lotta per le investiture fa emergere è uno dei conflitti tipici della storia politica del Medioevo vale a dire il conflitto tra l'impero e la Chiesa. Esso è legato a due questioni la prima delle quali è la questione dell'elezione papale. Ora c'è da dire che l'elezione del Papa nei secoli precedenti si era ridotta a terreno di scontro tra le potenti famiglie aristocratiche romane. si era dato addirittura un caso in cui erano stati contemporaneamente eletti tre papi. Proprio per cercare di porre rimedio a questa situazione gli imperatori tedeschi erano intervenuti facendo nominare papi uomini di loro fiducia quindi prelati tedeschi. Il papato dal canto suo aveva stabilito con il concilio lateranense del 1059 nuove procedure per l'elezione pontificia proprio per ribadire che essa era una questione che riguardava unicamente Roma. L'elezione doveva essere affidata ai cardinali vescovi cioè i vescovi delle sedi confinanti con la città di Roma che erano di stretta nomina pontificia. A questa nomina seguiva un consenso praticamente poco più che formale da parte del resto del clero e del popolo. In precedenza appunto l'elezione pontificia era affidata al clero e al popolo romano. La seconda questione come abbiamo visto è la questione dell'elezione dei vescovi conti legata appunto alla lotta per le investiture dal 1075 al 1122. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.